Come sta vivendo questa chiusura delle porte e delle finestre? Lockdown. Io la sto vivendo serenamente, molto bene, nel senso che sicuramente le risorse che ho acquisito in questi anni mi hanno permesso di poter restare abbastanza centrata in questa situazione. Io la vivo come una gestazione, quindi un po' il ritorno alle semplici necessità di cui abbiamo un po' di nostalgia. Gestazione quindi sta per nascere qualcosa? Secondo me sì. La vivo proprio come un'opportunità ed è quello che spiego anche ai miei allievi e alle persone che seguo. È una grande opportunità nel momento in cui ci stacchiamo un attimo dal bisogno di capire e di avere sotto controllo la situazione che è un'illusione ovviamente perché non ho sotto controllo nulla e questa situazione più che mai ce lo mostra che non abbiamo sotto controllo assolutamente nulla e che quindi nell'arrendersi a quello che c'è posso scoprire delle risorse interiori inaspettate. Quindi la ritengo una grande opportunità questa per chi si permette di scendere un attimo in profondità. Da dove sei collegata in questo momento? Io sono in Friuli sulla Peddemontana, quindi zona collinare, una zona molto bella, a mezzo alla natura. Abbiamo una casa in mezzo al bosco quasi. Quindi per te insomma non fa grande differenza, non lo senti poi tanto questo limite a uscire? Comunque il lavoro ti porta sempre a stare fuori, a correre in un certo modo, a gestire la giornata. Anche poi comunque con tre figli, comunque ci sono quelle incombenze. Io le definisco sempre un pochino adrenaliniche, quindi tutto molto nel fare. Ok, quindi questo sicuramente ci aiuta un po' a tornare a quella dimensione di... Io sto osservando che alla fine la giornata gira intorno al bisogno di amore e di cibo. E di cibo? Nutrimento, nutrimento... Nutrimento dell'anima vuoi dire? Sì, io per nutrimento intendo più livelli, quindi se stiamo bene con l'anima stiamo bene poi anche col cibo. Io mi sa che sono fermo a quello del cibo, perché esco a fare la spesa ed è la svago principale della giornata. Principale? Eh beh, sono le necessità primarie dell'essere umano alla fine, cioè ci siamo arricchiti di tante cose, ma abbiamo dimenticato le necessità primarie. Io no, io no, ti assicuro. Eh ma è proprio in questi momenti che vengono fuori le vere necessità. Noi siamo fortunati perché abbiamo una scusa del cagnolino, quindi due o tre volte al giorno si fa il giro del palazzo. Però ci sono tante persone che non hanno il cane oppure vivono nel cuore della città e sono in crisi in questo momento. Anche per altri motivi, magari perché sono costretti a relazionarsi tutto il giorno in situazioni difficili. Difficili, ecco. Forse i nostri utenti ancora non ti conoscono bene. Tu ti chiami Janine van der Marwee, ho detto bene? Come si pronuncia? In olandese sarebbe con un suono durissimo, quindi von der Merwee, che è terribile. Fantastico. No, van der Merwee, italianizzato van der Merwee. Ok, però diciamo comunque con te abbiamo realizzato un'intervista quando ancora ci si poteva incontrare, quindi abbiamo avuto il tempo anche di approfondire molto bene. Oggi invece con te vorrei che tu ci potessi dare degli strumenti, delle risorse che possono permettere alle persone che sono in difficoltà di gestire meglio la loro, come possiamo dire, solitudine. A volte non è una solitudine perché sono costretti a stare insieme a qualcun altro. Diciamo questo momento di difficoltà, come possiamo gestirlo dal tuo punto di vista? Innanzitutto parto da quello che faccio, quindi per poter dare delle risorse, ovviamente. Quindi io conduco dei gruppi di lavoro sistemico, quindi quelle che vengono definite costellazioni familiari, ma la mia specialità è la risoluzione dei traumi a rilascio corporeo. Quindi tutta quella memoria traumatica che rimane congelata nel nostro corpo, perché il trauma ovviamente è a più livelli. Una grande fetta di trauma rimane bloccata nel nostro cosiddetto istinto animale, perché noi ci dimentichiamo di essere mammiferi e di avere una memoria istintiva, arcaica, animale. Proprio appunto su quelle necessità di base di cui parlavamo prima, quindi il cibo, la sopravvivenza e tutti questi elementi. Quando vengono messi in situazione di allerta, quindi noi abbiamo paura di morire, paura che non ci sia cibo, paura di essere ingabbiato, che è un po' la situazione che sta avvenendo in questo momento, perché è proprio una sensazione di gabbia, io non posso uscire. Nel corpo viene percepita così, è come se immaginassimo di vedere un leone messo in un angolo, con la sua istintività, come reagisce un leone? O piano piano si addomestica, quindi cede, congela la sua istintività e si adatta, o reagisce, che è un po' quello che vediamo in giro. Quindi ci sono forme di anestesia, di congelamento, in parte non mi sento, non mi percepisco, mi sento fuori da me, in uno stato di alienazione. Quindi, visto che la situazione viene percepita come troppo, troppa roba, come un pericolo che non so da che parte come gestirmi, è un pericolo invisibile agli occhi. Ovviamente le reazioni sono appunto molteplici, quindi da una parte il congelamento, dall'altra ci può essere la reazione, che abbiamo visto magari in certe situazioni, mi sono state anche riferite, di code a fare la spesa, che esce fuori molta rabbia, persone che si insultano, che si aggrediscono, o questa rabbia verso l'autorità, quindi lo stato che ci dice, state a casa, e io mi arrabbio, dico no. Quindi cerco di sfidare la regola, cerco di uscire fuori dalla regola, ok? Ma perché in quell'autorità noi molto spesso riflettiamo quella che è la proiezione di nostro padre, quindi di quell'autorità di chi in teoria ci dava le regole da piccolo, ok? Da piccoli, che magari il nostro bambino interiore viveva come un sopruso, come un'invasione, ed emergono tutti questi stati emotivi. Un bambino quando viene al mondo, ovviamente non è mente, non è testa, è esperienza, fare esperienza nello spazio, nella tridimensionalità, quindi allargandosi, sperimentando, sporcandosi, urlando, piangendo, facendo rumore, confusione, ok? Quindi chi di noi ha subito modelli educativi piuttosto restrittivi, quindi della serie, non piangere, non dare fastidio, non fare rumore, o non sporcarti, o mamme magari soffocanti, attento che tamali se, tutte queste forme di limitazioni, che è quel piccolo, io lo chiamo piccolo Mowgli, presenta il personaggio del libro della giungla. Ah, sì, sì. Il libro e poi il cartone animato di Walt Disney, quindi quel bambino selvatico dentro di noi che poteva acquisire informazioni attraverso l'esperienza corporea e sensoriale. Sì, sì, sì. Perché ovviamente abbiamo bisogno di percepire attraverso i sensi, quando questo ci viene limitato e anzi è il genitore che decide l'esperienza, e quindi non è l'educazione, è altro, ok? È un'altra questione quella, io sto parlando proprio dei primissimi anni, quindi il bambino che si allarga nello spazio, uno o due anni, ok? Quindi genera frustrazione subito dall'inizio. Assolutamente, hai proprio usato il termine adatto, frustrazione. È una frustrazione interiore che diventa un'energia inespressa, quindi io per essere amato devo fare come dicono mamma e papà, ovviamente, perché questo è il bambino, lui dipende, è dipendente dal grande, gli hanno dato la vita, quindi dipende da loro. Un cucciolo di leone sa benissimo che senza la mamma non potrebbe sopravvivere. E cosa produce nel tempo questa frustrazione accumulata dentro? Innanzitutto spacca in due l'individuo, ok? Cosa intendo dire? La sua personalità. Sì, nel corpo io sento delle sensazioni, sento che magari vorrei fare esperienza di quella cosa, perché non la reputo sbagliata, ok? E mi arriva al comando da mamma, no, non fare questo, perché per mille motivi. Dentro di me, io mi fido delle mie sensazioni, perché sento che il mio corpicino mi porta a voler acquisire quell'informazione, ovviamente, nell'esplorazione. mamma mi dice il contrario. E quindi, internamente, incomincio, ovviamente non è qualcosa di cosciente, non è mente pensante che dice, ah ok, no, è semplicemente una questione di sopravvivenza, ok? Mi spacco in due e inizio a non fidarmi più di quello che sento io, ok? A percepire, e lì inizia la fregatura, inizio a delegare, ok? Dipendo dall'opinione del grande. Perdo fiducia e non so più quali sono le mie volontà, i miei desideri. Le sensazioni, proprio, parliamo di sensi. Cioè, non sono più in ascolto, non uso più i miei sensi. Assolutamente. I sensi, ovviamente, poi sono collegati alle emozioni, al cuore, all'espansione. Perché, ovviamente, la parte emotiva si espande nella misura in cui io mi sento libero di espandermi, ok? Quindi, l'interferenza che avviene in maniera, ovviamente, non è giudizio verso il genitore, partiamo da questo. Assolutamente siamo tutti figli a nostra volta e abbiamo acquisito dei modelli sociali, culturali, educativi, religioni. e così via. Quindi, per quello noi le definiamo problematiche sistemiche. Sono problematiche che a livello transgenerazionale si tramandano in generazione e generazione che non si fissano solo a livello psicologico, ma si fissano proprio a livello corporeo. E quelle che sono delle contrazioni corporee. Se mamma, spesso, papà mi dicevano spesso no, 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 ok, non si fa così, non si fa colà. Quel no è una contrazione anche nel mio respiro, nella mia espansione toracica, nel modo in cui digerisco il cibo, perché ovviamente il cibo è collegato all'amore genitoriale, specialmente materno. Come assimilo il cibo, come sono rilassati i miei muscoli, come tutto il mio corpo può essere rilassato. Quindi, vivere tutto questo da piccoli è doloroso. Poi quando magari arriva anche, non so, la botta, la bacchettata o la percussione corporea, lì è ancora peggio. Ancora peggio, ancora peggio. Cioè, proprio uno shock, ok, che dura magari due microsecondi. È altro che contrazione, lì proprio hai, cioè ti rimane il livido. Nel lavoro che porto, molte cervicali spesso sono memoria di quelle sberle che ci arrivavano improvvise da dietro, ok, così, pam. Lo scappellotto, sì. Sì, sì, lo scappellotto per dietro. Quindi quello shock, mi arriva qualcosa da dietro, devo stare attento, devo stare in allerta. L'animale che è in me in allerta, stiamo parlando proprio di istinto animale, quindi la minaccia mi arriva da dietro e la contrazione della muscolatura, le spalle, il collo e tutto quanto sono collegate a quello shock primario. Quindi sono molti livelli di trauma, siamo tutti iper traumatizzati, mettiamocela via. Sì, senza arrivare a livelli patologici, psichiatrici, eh, assolutamente. Sì, sì. Non stiamo parlando di patologie psichiatriche, stiamo parlando di contrazione del mio essere, ok. E quindi in questa situazione particolare che stiamo vivendo, è ancora più amplificato tutto questo. Perché la minaccia, che non è la minaccia dell'uomo primitivo, quindi il leone, no, qui no, in Italia no, però il lupo, l'animale selvatico, l'inverno che poteva essere molto freddo, il raccolto che non poteva bastare e così via, che erano minacce tangibili. Sì, ok. Questa minaccia è a un altro livello, non è palpabile ai sensi, molto arriva dalle notizie, molto spesso contraddittorie, quindi anche una grande confusione. Confusive, sì. Assolutamente sì, perché un esperto dice una cosa, l'altro esperto dice un'altra, l'autorità ne dice un'altra ancora. E questo genera ansia. Assolutamente sì, perché il bambino appunto non sa più a cosa credere, il bambino che è dentro di me non sa più a cosa credere. In questa confusione di notizie, di interventi, di specialisti, perché ovviamente il medico, lo scienziato, il politico, per me rappresentano il grande, l'autorità, rappresentano chi dovrebbe farmi sentire al sicuro, chi dovrebbe proteggermi. Ma se io da piccolo non mi sono sentito al sicuro, è protetto dai miei genitori o dall'ambiente che mi circondava, tutte queste memorie risalgono in superficie. Assolutamente sì, perché è una bolla emotiva, corporea che è ancora presente. E dove è presente? Nella pancia. Nel nostro apparato gastrointestinale è definito il secondo cervello, per chi fa psicosomatica, tutte queste varie tecniche. Per cui quello che io con la voce da piccolo non esprimevo col pianto, prima di tutto, piangere è la prima forma di comunicazione per il neonato. Però il neonato è così aperto sensibilmente a tanti livelli, specialmente corporei, istintivi, emotivi. È un esserino che si sta strutturando, è un esserino che è tutto in formazione, come ho detto prima, dipende. Se sente, percepisce che mamma è ansiosa quando lui piange, quindi mamma è contratta, mamma ha un tono di voce alterato perché sente il suo bambino piangere, lui lo percepisce. Vorrei ora passare, se è possibile, agli strumenti che abbiamo in questo momento, che possiamo tirar fuori per auto-aiutarci. Qui si tratta di un lavoro da noi stessi, non stiamo entrando in contatto né con uno psicoterapeuta né con qualcun altro all'esterno. Dobbiamo fare da soli. Cosa abbiamo come utensili di auto-aiuto? È molto semplice, nel senso, a parte a me piace dare strumenti semplici, perché la semplicità non ha interpretazioni, non c'è modo di interpretare. Perché siamo molto bravi a interpretare le cose. Quindi la semplicità sta nel tornare appunto a quel, è un rewind, mettiamola così, a quella fase in cui io sentivo la realtà attraverso i miei sensi. Quindi quel bambino che grazie al tatto, all'olfatto, alla vista, assimilava informazioni. E questo gli permetteva di restare attinente alla realtà. Sì. La preoccupazione, e quindi è già bello il termine, preoccupazione. Quindi mi occupo prima. Già questo ci fa capire molte cose. La preoccupazione è a livello mentale, è un pensiero, è una costruzione mentale, in cui io ci metto un sacco di roba, ci faccio dei film incredibili, ma delle telenovela, mi invento la fine del mondo. Cioè posso costruire dei mostri incredibili, in cui perdermi, ovviamente. E questo provoca poi di conseguenza che il mio corpo, il mio cuore inizia a battere più velocemente, inizio a sentire il mio respiro affannato. Entro in uno stato d'ansia. Soprattutto, voglio dire, se non c'è il confronto con qualcuno, qualcuno di ben posato mentalmente, non ho il confronto e non posso sfogarmi o comunque parlare con qualcuno. Quest'ansia si amplifica, entra in un loop. Come fai per interrompere questo loop? Allora, immagina che questo loop è un impianto elettrico. Ok, non so se ti ricordi a scuola quando ci insegnavano gli impiantini elettrici a CDC, corrente alternata, le varie levette che si alzavano. Ok, il nostro sistema nervoso è quell'impiantino elettrico lì, ok, dove gira tutta sta corrente che quando io entro in quel loop, ovviamente sto mettendo un voltaggio molto più amplificato. Mi arriva troppa roba, troppo, ok, troppo intenso, troppo forte, troppo veloce, ok, questi sono proprio i sinonimi. E quindi come l'interrompo? Innanzitutto ci vuole presenza nell'accorgermi che entro nel loop, ok? Tante persone non se ne accorgono, è una condizione naturale, è quasi come un tossicodipendente drogato di uno stato adrenalinico. Quindi non mi accorgo di essere nel loop. Mezzo, già mezzo lavoro accorgersene. Ok, ok. Molta gente se ne accorge quando gli arriva la patologia, quindi il cuore mi va in iper, per dire, inizio a avere problemi cardiaci. Sì, sì. Ok, o ipertensione, lì me ne accorgo. Se me ne accorgo, ed è già meraviglioso accorgersene, che sto alimentando questo circuito, ovviamente posso riportare la mia attenzione, innanzitutto facendo due bei respiri profondi, proprio sentendo l'aria che respiro, poi l'aria che espiro. Io già sto respirando. Ok, bravissimo. E iniziare a guardare con gli occhi la stanza in cui sono, l'ambiente in cui mi trovo. Quindi proprio dandomi il tempo di osservare lo spazio, gli oggetti, guardandomi anche dietro. Proprio dare, come se col respiro io mi portassi dentro l'informazione dello spazio dove mi trovo, quindi la realtà. Sì. E quindi raccolgo, raccolgo e respiro. Ok, posso ripetermi, qui sono al sicuro, delle semplici frasi. Qui non mi succede nulla. Posso magari metterlo insieme al fatto che mi tocco i polpastrelli delle dita, o le due mani si toccano, respiro, sento la consistenza delle mie mani, c'è la pelle, ok, respirando. Magari provo a farlo Massimo. Ecco, ecco, ecco. Sono nascosti sotto il tavolo ma stavano... Ok, e porto proprio l'attenzione a quella sensazione di tatto e respiro, ok. Magari all'inizio faccio difficoltà perché quel pensiero è piuttosto assillante, ok, come ho detto prima è una droga. Soprattutto faccio fatica a crederci che possa funzionare. Eh, si può solo farne esperienza, ok. Ok, il bambino impara facendo esperienza, non perché gli viene detto, non perché gli viene impartito un ordine. Il bambino integra l'esperienza. E una volta che uno più uno fa due, ah, questa cosa mi piace e quindi l'assimilo, ok. Ok, e quindi mi tocco le mani, magari anche tocco una con l'altra, ok. E respiro, respiro. E porto tutta l'attenzione proprio alla sensazione tattile delle mie dita. Le sento, sento la pelle, sento le ossa sotto, è qualcosa di reale. Ok. E magari poi mi tocco il volto. Piano piano, facendo attenzione appunto ai microfoni. Respira e ti tocchi il volto, gli zigomi. Respira. La bocca. È proprio la sensazione tattile. E quindi stacco un attimo l'attenzione da quei pensieri per portarli, portare la mia attenzione a qualcosa di reale, di concreto. Stacco la spina un attimo. Una frase molto utile è ripetersi, l'adulto può sentire. L'adulto può sentire, questa non la sapevo, non l'avevo mai sentita. L'adulto può tornare a sentire, perché ricordiamoci che molte parti di noi le abbiamo congelate, il bambino le ha congelate. È molto utile magari mettere una mano sopra, sulla fontanella, e una mano su cuore. E porto l'attenzione lì. E stacco la spina. Come ti fa stare a fare queste cose? Rilassato. Ecco, e dove senti che sei più rilassato? Siccome mi devo concentrare su questo che devo fare, devo sentire cosa sento sulla testa, cosa sento sul cuore, praticamente la mia attenzione si stacca dal resto. Dimentico che sono in linea con te e chiudo il computer. Adesso non puoi farlo, quindi se vuoi poi lo puoi fare. Infatti in questo momento non posso realmente, però mi fa venire in mente che in questo procedimento io lo applico, per esempio, quando non mi sento benissimo. Esco, io ho un piccolissimo giardino e posso dedicarmi ai fiori, alle piante, e immediatamente sparisce tutto. Io sono presente in quel momento con il fiore, con la pianta, e tutto il resto non esiste. Anche perché lavorare con la terra, con le mani nella terra specialmente, scarica molta energia nervosa. Ricordiamoci che noi siamo come delle antenne che accumuliamo un sacco di energia anche elettrica, non sana, che poi si amplifica con la preoccupazione, questi loop. Il lavorare con le mani nella terra, camminare scalzo sulla terra, aiuta moltissimo a portare fuori proprio a livello elettrico. È proprio uno scarico. Se noi torniamo nella realtà oggettiva delle sensazioni, quindi proprio dei cinque sensi, quindi magari porto l'attenzione annusando l'aria, sto bevendo un tè e annuso il profumo che ha. Questa si chiama meditazione attiva. Ricordiamoci che noi occidentali, per noi occidentali, è molto difficile meditare perché sono troppe generazioni che siamo adrenalinici. Abbiamo alimentato tantissimo la testa. Quindi già meditazione è il fatto che io lavo i piatti e resto semplicemente a lavare i piatti e non che mentre lavo i piatti mi faccio un filmino in testa. Ecco, però Janine, è importante questo, secondo me. Cioè noi quando possiamo decidere di giocare con il cane, decidere di occuparsi della pianta o di fare gli esercizi che tu hai proposto, non siamo ancora in uno stato di congelamento totale perché il nostro cervello funziona e possiamo prendere questa decisione per stare un po' meglio. Però ci sono molti casi in cui tu sei in un loop talmente forte che non riesci neanche a fare un respiro. Allora c'è una routine che possiamo improntare nella nostra vita di questi giorni dall'inizio della mattina, tale che non ci porti ad entrare in questi loop irreversibili? Mi ripeto un attimino sul fatto che, come abbiamo detto prima, è già un grandissimo lavoro riconoscere di essere nel loop. La persona che è completamente identificata nella nevrosi è molto difficile, cioè si alza che già è in una forma nevrotica. Cosa ci sta permettendo questa chiusura forzata? Che non mi sveglio più per andare in ufficio o per correre in centro a Roma imbottigliato nel traffico. Ho il tempo, finalmente, di potermi fermare. E questo ha provocato degli stati ansiosi molto forti. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui io mi alzavo e iniziavo a correre fuori, tutta quella energia nervosa la scaricavo anche correndo fuori. Mi correggo, mi illudevo di scaricarla. Perché come una dinamo creo il circuito per cui me autoalimentavo quella cosa. Finché arrivo a un certo punto che neanche riesco più a dormire la notte. E questo è il punto. La forzatura di essere chiusi in casa inizialmente cosa ha portato? Che come un vaso di Pandora tappato per una marea di tempo tutta questa roba è salita su proprio tantissima, tantissima. Quindi anche se ho il tempo sono lì che devo fare, devo fare. Infatti so di donne che stanno pulendo casa da cima in fondo o stanno buttando via l'impossibile. che ci sta, ci sta un lavoro di pulizia. Cioè io dico sempre pulisci fuori, pulisci dentro. Bisogna osservare come lo faccio. Lo faccio con presenza o lo faccio come una forse nata isterica? Ok? Perché c'è modo e modo. Pulisco sentendo le mie mani che stanno pulendo? Sentendo che prendo in mano lo straccio? o senza rendermene conto? Questa è la bella differenza. Quindi un aiuto anche per chi si sveglia già con questa iper energia. Io consiglio molto spesso semplicemente quando vai in bagno che ti lavi la faccia ti sciacqui, tutto quanto e alzi il tuo volto e guardi lo specchio come ci stiamo guardando io e te in questo momento in questa forma virtuale però come se ci fosse uno specchio qui dedico qualche frazione di secondo a entrare in contatto con quegli occhi riflessi nello specchio. Respiro. E semplicemente ripeto sì. Sì. Guardando quegli occhi. Cioè mi permetto anche per un attimo è ovvio che ci vuole una disciplina perché se no nessuno è difficilissimo senza avere una persona che comunque ti conduce ti aiuta spezzare delle dinamiche che sono magari 30 anni 40 anni 50 anni che tu che porti avanti ok? È molto difficile. Però magari quell'attimo secondi in cui io mi soffermo e mi guardo e respiro inizio a spezzare una routine perché la dobbiamo rompere questa routine la dobbiamo rompere questa dipendenza perché alla fine è una dipendenza in tutti gli effetti possiamo tranquillamente classificarci tossico dipendenza è una chimica interiore ok? Quando quel bambino non poteva faceva troppo male sentire delle cose quelle che ho detto all'inizio e quindi anche le situazioni di violenza o anche semplicemente guardare mamma e papà che discutevano però io invito anche le persone che guardano questo video invito la persona che sta ascoltando a sentire l'effetto delle parole anche di questo momento che io sto dicendo perché hanno un effetto non siamo immuni perché siamo abituati alla lezione accademica il professore sta là e io passivo sto lì non mi accorgo che quelle parole hanno un effetto sul mio corpo le hanno e come quindi quando io esprimo il fatto che guardare mamma e papà che litigavano mi faceva male al cuore se tu ti ascolti in questo momento entri dentro lo senti che c'è una ferita interiore rispetto a questo c'è un ricordo che io ho messo là nell'angolino e che non voglio contattare che non voglio sentire perché quel cuoricino pieno di amore verso mamma e papà in piena apertura ha dovuto congelarsi ha dovuto irrigidirsi ha dovuto trattenere quel dolore e tenere dentro tutta questa roba ma se io ho paura anche di mamma e papà perché vedere un grande arrabbiato fa paura da piccoli perché è grande se poi è il grande che ti ha trasmesso la vita come faccio a fidarmi del grande che mi ha trasmesso la vita ok quindi la paura cosa produce chimicamente nel corpo adrenalina e nell'animale l'adrenalina ha la funzione di farti scappare al pericolo quindi quel correre forse nato che c'è nella metropoli sì alla fine è trauma io sto scappando e continuo a vivere in un lupo di fuga quindi alimento una condizione di fuga dal ciò che io reputo pericoloso fin da piccolo ed è per questo che nelle generazioni poi abbiamo costruito una realtà forse nata ok di corsa tutto di corsa senza sentire nulla perché siamo traumatizzati quello che si riassume nella parola stress la vita stressante sembra quasi una cosa normale ormai lo stress che ci deve ci debba essere alcuni dicono se non ho la mia dose di stress non sto bene siamo drogati è tipico di chi va in pensione ed entra in crisi depressiva è tipico appunto delle coppie che vanno in ferie e litigano tutto il tempo la quarantena di adesso che ci ferma e quindi esce fuori tutta questa 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 rabbia e questo dolore del bambino che non mi sono permesso di sentire per tanti anni ecco mi viene in mente un piccolo esercizietto che si può fare ecco ok rispetto a questo che ho detto ci vuole ci vuole perché ovviamente appunto se io riconosco mettiamo il caso facciamo un esempio molto semplice una coppia si ritrova già magari era in crisi prima è successo così tantissimi erano già in crisi prima con difficoltà però finché ognuno lavora ognuno è fuori casa ognuno nel suo loop va tutto bene tiriamo avanti un pseudo equilibrio è un momento in cui la coppia si ritrova a dover convivere ogni attimo della giornata in un appartamento magari di 60 metri quadri figuriamoci cosa esce fuori assolutamente di tutto tutto quello che non si è voluto affrontare in quegli anni emerge fuori come una bomba emotiva ovviamente e quindi ci si scontra in questo disastro faccio un esempio molto appunto nasce una discussione fra uomo e donna mio marito non mi ha dato le attenzioni che avrei voluto avrebbe dovuto sparecchiare la tavola e non ci ha pensato che io ho già un sacco di lavoro da fare e sento tutta questa frustrazione dentro sono due le opzioni gli vomito a lui tutta questa frustrazione o mi permetto di soffermarmi un attimo di ascoltare questa frustrazione dentro di me tutta questa rabbia e mi isolo un attimino e qui ci vuole un attimo di volontà perché è molto più facile vomitare addosso all'altro ovviamente siamo abituati a far questo a chi urla di più uno sopra l'altro è così ma ovviamente non arriviamo a nulla anzi e quindi io donna mi isolo mi metto le mani sulla mia pancia molto delicatamente e immagino visualizzo dentro di me che dentro perché è così c'è quella bambina che è tanto arrabbiata magari con il papà perché papà non la riconosceva papà non la guardava variati motivi insomma ognuno sa il suo e porto l'attenzione alle mie mani sulla pancia che coccolano lo può fare un uomo tranquillamente e sento questa intensità perché alla fine quella rabbia dov'è? non è nella testa non è neanche tanto nella gola ma è nelle viscere se ci si ascolta quando io inizio a urlare a portare fuori a rabbia è viscerale è nell'intestino dove c'è tutto quello che io non ho espresso da piccolo e quindi poi la vomito sul mio compagno sulla mia compagna ma non ne veniamo fuori visto che dobbiamo stare in quarantena tutti quanti insieme diventa impossibile vivere insieme così e quindi nella parte intestinale c'è e lo sa chi è intollerante perché ormai gran parte della gente è intollerante ovviamente una parte è data dall'inquinamento che è presente nel cibo che mangiamo nel grano tutte queste cose qui indubbiamente ma una parte è anche perché quell'intestino si è congelato quelle lacrime si sono congelate la frustrazione del bambino si è congelata lì nell'intestino e quindi c'è lì presente tutta quella rabbia e quindi è un po' come far finta di essere incinta incinto so che per un uomo è un po' più difficile immaginarselo però mi coccolo quella pancia mi coccolo quelle viscere e divento genitore di me stesso e smetto di chiedere al mio compagno alla mia compagna di essere mia madre o mio padre perché è questo che faccio ok non ce ne rendiamo conto ma chiediamo al partner di sostituire i nostri genitori di darci l'amore che non abbiamo avuto da piccoli e il partner non lo può fare il partner ti può amare da uomo da donna non da genitore è molto utile proprio a riportarsi dentro a stare in quel dentro ok e quindi assolutamente per quello lo dico la meditazione è un processo che avviene dopo avviene quando abbiamo imparato reimparato ok perché da piccoli lo facevamo quando eravamo piccoli stavamo dentro ok quindi dobbiamo solo ricordare che si può stare dentro e non succede nulla questo è molto interessante prima della meditazione dobbiamo ritrovarci con noi stessi se no è impossibile cioè tu puoi stare seduto anche un'ora con la schiena impalata ma quella non sarà mai una meditazione no perché la testa è abituata a correre mille pensieri inizieranno a martellare in testa perché non riusciranno a fermarsi ci vuole molta molta disciplina in questo quindi per la persona che è proprio neofita il consiglio è proprio quella che viene definita presenza mentale abbiamo capito io mi bevo il caffè e sento il caffè sì quindi magari ci riesco cinque secondi ok ma è già una presenza lavo i piatti e sento la schiuma sento l'acqua calda gioco il bambino è totalmente presente nel gioco sì sì assorto completamente lui è lì che si gusta perché esprimo un concetto molto importante anche l'intimità dell'adulto quindi poi anche il rapporto col proprio corpo e poi quindi anche la sessualità riesce a entrarci in contatto nella misura in cui io sono in quei sensi è il godere nel fare le cose gustarsele ok il bambino gode guardate un bambino piccolo lui è lì che proprio se le gusta con la bocca con la pelle con l'odore si spalma il cibo è un'esperienza possiamo definirla tantrica ecco il famoso tantra di cui si parla è questo è il godimento del bambino questi concetti sono sono molto belli molto importanti ma credo che abbiano bisogno di una palestra non si possono ascoltare una volta e poi si sa tutto e vai è opportuno ritornarci su questi argomenti fare esercizi crescere in questo senso sicuramente ci può aiutare io in questo momento mi sono attrezzata un attimino ovviamente è stato difficile anche per me adeguarmi un attimo a questa nuova modalità di comunicazione visto che poi lavoro con il corpo e le sensazioni mi è sembrato quasi impossibile poter passare informazioni di questo tipo via virtuale e quindi è stata una palestra anche per me aprirmi a questa modalità e invece funziona funziona assolutamente quindi tengo delle sessioni adesso le sto un attimino mi sto rodando anch'io nel tenere sessioni individuali con le persone anche via in via virtuale sto continuando a seguire i miei gruppi di formazione perché propongo dei percorsi esperenziali di crescita e anche formativi per terapeuti di valore tipo da psicologi psichiatri educatori counselor terapeuti olistici di ogni tipo proprio sul lavoro sistemico quindi le costellazioni familiari e l'approccio appunto alla risoluzione del trauma sul rilascio corporeo poi tu hai dei gruppi dedicati per le donne per esempio si seguo dei gruppi dedicati alle donne proprio sulle tematiche femminili quindi entrare in contatto con quei temi che un po' appunto in questa fretta che la donna vive nella sua quotidianità ha completamente tralasciato degli aspetti molto profondi dai femminili anche collegati al sacro perché c'è anche questo ho scritto due libri su questi temi con anche esercizi proposti il primo libro si intitola l'uomo e la donna naturali e quindi porto in analisi tutte queste problematiche di separazione dal nostro corpo dalla nostra istintività animale un percorso di crescita poi fa cambiare anche le abitudini quindi il rapporto con la terra il rapporto con l'ecologia il rapporto col cibo è una conseguenza perché nel momento in cui sto bene dentro automaticamente io cambio le mie abitudini in relazione all'ambiente che mi circonda siamo inquinati dentro e siamo inquinati fuori ci potono fare quindi molti pensano no è inquinato fuori quindi siamo inquinati dentro no prima siamo inquinati dentro se pensiamo ai popoli tribali o nativi mai e poi mai darebbero da mangiare un hamburger a un loro figlio non darebbero per loro è cibo morto non ha niente a che fare con la vibrazione a me piace adesso questo è il periodo della raccolta delle erbe spontanee quindi germogli l'energia che ha un germoglio con tutta la sua energia vitale nell'uscire fuori assolutamente è il cibo più vivo e pieno di energia in assoluto e questo poi è una conseguenza sul corpo io sono vivo e quindi nei miei libri porto questa esperienza l'esperienza dei lavori che propongo il secondo si chiama la chiave del tempo ed esprimevo una frase che non abbiamo più tempo per ritrovare il nostro tempo è un po' questa pandemia ci ha obbligato a ritrovare il nostro tempo alla fine abbiamo bisogno di rientrare quindi nei miei due libri appunto spiego tutto questo proponendo proprio esercizi anche pratici grazie per essere stata con noi è stato un grande un grande piacere speriamo di aver dato delle indicazioni utili ai nostri ascoltatori per vivere meglio questo periodo particolare ti ringrazio Massimo grazie per lo spazio che mi hai dedicato e un saluto a tutti quanti grazie grazie a tutti grazie a tutti